Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Tragico lutto in Italia, è morto all'improvviso pochi minuti fa. Era giovanissimo ma purtroppo è stato colpito da un infarto fulminante. Tutti sotto shock. Avrebbe compiuto 23 anni il prossimo primo agosto. Ma il destino gli è stato avverso e ieri mattina un arresto cardiaco non gli ha lasciato scampo interrompendo la vita di Francesco Ploteger, figlio dei titolari del negozio Mille Cose di Via Colpi, in pieno centro storico a Folgaria. Un luogo che da cinque anni era parte integrante della vita del giovane Ploteger, che aiutava il padre e la zia con passione e spirito familiare. Come tutte le mattine, anche ieri, Francesco sarebbe dovuto andare in negozio portando quel suo inconfondibile sorriso e quella sua parlantina che sapeva usare in ogni situazione. Anche con figure istituzionali, non ultimo il sindaco di Folgaria Michael Wetsch. Dopo i primi minuti di ritardo, già inusuali per il giovane Ploteger, dal negozio si sono insospettiti. La famiglia risiede proprio sopra l'attività, così padre e zia sono andati a controllare. Il dramma si è palesato in tutta la sua tragica realtà. Purtroppo il cuore di Francesco non è ripartito e non si è potuto fare altro che constatarne il decesso.